Si rende necessaria gara 3 per Monza, ma alla fine la Saugella passa in semifinale. 3-1 ai danni di una Reale Mutua Fenera, Chieri comunque sempre volitiva che ha ceduto soltanto nella parte finale del quarto set. MVP Anna Danesi, ancora una volta complimenti, 14 punti tra cui 4 muri, un'altra grande prestazione tua personale e molto buona della squadra. Grazie, sì sono contenta perché i frutti di un intero anno di lavoro stanno venendo fuori. Sì, poi mi piace mettere sempre e devo mettere il 100% per la squadra e in questo momento penso di star dando il massimo anche per loro, soprattutto con la voce e non solo con i punti, quindi niente sono contenta per me ma contenta anche per noi perché ce lo meritiamo. Mercoledì cominciano le semifinali, gara 1 a Novara alle 20.30, una Novara certamente pericolosissima, la conosciamo bene. Dovrete alzare un po' il livello di gioco. Sì, un po' il livello di gioco, cercare di mantenere la concentrazione tutta la partita perché molte volte abbiamo dei gap, dei momenti di buio che in una semifinale scudetto non devono capitare. Purtroppo anche quello si allena in palestra ma non avremo tanto tempo ma secondo me il focus principale sarà quello. Nell'altra semifinale, sempre mercoledì alle 18, si affronteranno Conegliano e Scandici in diretta da Villorba su Resport.